Onorevole Amitrano, lei è membro della Commissione Lavoro alla Camera. A cosa state lavorando per sostenere giovani e meno giovani del Sud a trovare lavoro? Come abbiamo visto già dai ultimi dati che ci ha dato l'Istat, oggi il tasso di disoccupazione è il più basso degli ultimi 40 anni. Questo è un importante risultato che già abbiamo ottenuto, ma bisogna fare ancora di più. Per i giovani del Sud, in particolar modo anche per tutti quelli che si trovano a Sud, sono tanti gli investimenti e gli incentivi che stiamo mettendo in campo, sia per quanto riguarda le assunzioni, sia per quanto riguarda l'imprenditorialità. E sono stati inseriti già in questa legge di bilancio. Ora come Commissione Lavoro siamo invece all'opera per iniziare tutta una riforma che riguardi soprattutto il mobbing sul posto di lavoro. Olorevole, lei ben conosce la questione del terremoto ad Ischia avvenuto nell'estate del 2017. Ora c'è il problema della ricostruzione e il movimento se ne sta occupando già dal primo governo Conte. Qual è la posizione del suo partito? Come ha detto bene lei, noi già dal primo governo Conte abbiamo iniziato un'opera per favorire la ricostruzione a Ischia nel posto terremoto, che è stato un terremoto che ha scosso tutti noi, in particolar modo me che sono napoletano e che a Ischia ho passato tanto della mia vita. Oggi dobbiamo impegnarci ancora di più per fare in modo che Ischia e che tutti i cittadini ischitani abbiano finalmente una ricostruzione efficiente ed efficace. Olorevole, lei è tra i più giovani segretari dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati della storia repubblicana. Come sta affrontando questo incarico? È un incarico impegnativo e gravoso ma di cui vado molto fiero. Infatti alla Camera nella nostra gestione, oggi sono quasi due anni che gestiamo Palazzo Montecitorio, siamo riusciti in maniera continuata nel tempo a ridurre le spese. Questo per noi è stato un grandissimo risultato. Il servizio non cambia, ci sono nuove assunzioni con i concorsi ma le spese si sono ridotte. Olorevole, un commento per quanto riguarda le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle. Quale sarà il futuro del Movimento e qual è la sua idea in merito? A me dispiace molto che Luigi abbia fatto questa scelta di dimettersi perché penso che ci abbia portato a grandissimi risultati quando ci sono state le elezioni e che non è giusto dargli le colpe di tutte le cose che non funzionano all'interno del Movimento. Oggi abbiamo di fronte una sfida che è quella di marzo, ci saranno gli stati generali del Movimento 5 Stelle e lì si sceglierà o un nuovo capo politico o forse ancora meglio una via collegiale dove saremo in più a scegliere tutti insieme quelle che sono le fasi del Movimento. Ci tengo a ricordare che è importante che oggi finalmente abbiamo facilitatori nazionali e regionali che sicuramente aiuteranno i cittadini che si vogliono avvicinare al Movimento e a portare le loro istanze, a interagire con noi e quindi anche a rafforzare quello che è il nostro gruppo.